Bingo Center, via Milazzo 12 a Catania, presso l'Exempire. Nuovi locali, una sala tutta nuova, sala slot, WLT, bar, pizzeria, serietà, cordialità e professionalità. Le troverai tutte da noi. Apertura tutti i giorni dalle ore 14, sabato e domenica dalle ore 9. Vi aspettiamo. Bingo Center, concessione numero 206, AMS Monopoly di Stato. Il gioco è vietato ai minori e può provocare dipendenza. Gioca responsabilmente.